Ha avuto importanza nel momento in cui ho iniziato a seguire il Boca, perché da piccolo qualsiasi giocatore, qualsiasi piccolo giocatore che vedeva il calcio, sono dell'83, quindi l'epoca era quella giusta, ho vissuto gli anni subito, quando ho iniziato a capire qualcosa di calcio erano gli anni subito successivi al grande Napoli di Maradona, Italia 90, questi sono stati gli anni suoi forse migliori, quindi non puoi non innamorarti di un giocatore come Maradona, anche se poi ti fa un'altra squadra, quindi lì ho iniziato a seguire un po' il Boca e da lì poi dopo l'obiettivo si è subito spostato su questa follia che c'è qui dietro questa squadra, questo amore così forte e da lì è nato tutto, poi dopo la scelta ha toccato altri profili umani, familiari, professionali e personali di stimoli.